Applausi Ringraziamo il Comune, ringraziamo tutti quelli che si ringraziano di solito, non serve dirlo Ringraziamo Lara Bertuzzo che non sa che non deve cantare, ringraziamola E soprattutto, mi sentite se parlo? Sì, urlo Prima non ho presentato i bassisti, quindi si prendono un grande applauso adesso Che sono Maria e Carlo E adesso abbiamo veramente finito, grazie a tutti, spero che tornerete l'anno prossimo L'anno prossimo li vestiamo da astronauti Direi che possiamo finire 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 Buonanotte a tutti, ciao Grazie 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 Grazie